No Man's Sky è un titolo che come molti altri prima di lui preceduti da una hype spaventosa ha diviso la critica ma anche la community dei giocatori. C'è chi lo ritiene un capolavoro, c'è chi invece lo ritiene un gioco mediocre. Io penso che chi lo ritiene un gioco mediocre sia un po' annebbiato dalle aspettative che si era fatto per il titolo e quindi abbia valutato il gioco non per quello che il titolo effettivamente offre ma per le aspettative che si era fatto e che sono state puntualmente infrante.